Mi dica quello che vede, non si preoccupi, non ci sono risposte giuste o sbagliate, cerchi di liberare la mente, cosa vede? Un uomo di mezza età, calvo, con problemi di sovrappeso. Mi riferivo a cosa vede nell'immagine. Ciao ragazzi, ora che ho perso i diritti sull'immagine, sono libero di farmi tanti nuovi amici, sì! Povero piccolo topolino, così vicino e solo, non preoccuparti, ti farò diventare parte di me, non sarai mai più solo nei cento acri del mio stomaco. RILAX! Non si preoccupi, NFJ, lei è semplicemente PEZZO! Sono 300 euro senza fattura per la visita. Huh? RILAX! Grazie a tutti.